Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Boom di guarigioni nel comune di Torre del Greco. Infatti sono 41 le persone registrate che hanno sconfitto il covid-19. Si certificano invece tre nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 94 attualmente positivi, di cui nove ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece registrati due nuovi casi di contagio da covid-19 a fronte di 107 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,87%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 60 i cittadini attualmente positivi. Intanto il presidente della campagna, Vincenzo De Luca, rinnova il suo appello ai cittadini a vaccinarsi. Lo ripeto ancora una volta, dobbiamo vaccinarci tutti e non andare dietro le stupidaggini che circolano anche sui social.